E' ancora un'operazione valida organizzare grandi eventi sportivi in Sicilia, anche in un momento così difficile come quello che attraversiamo? A queste e ad altre domande si è risposto nel convegno che si è tenuto alla Scuola di Polizia Penitenziaria di San Pietro Clarenza, dal titolo Sicilia, i grandi eventi. Si è trattato di uno degli eventi collaterali e campionati assoluti di corsa su stada a 10 km in programma a Trecastagni il prossimo 12 settembre. Sì agli eventi sportivi ma ragionando in modo completamente diverso rispetto al recente passato. E' stata più che positiva la risposta degli importanti relatori, tra questi il presidente del CONI Sicilia Sergio D'Antoni, il comandante del gruppo sportivo Fiamme Gialle Vincenzo Parrinello e la medaglia d'oro olimpica Giorgio Avola. Convegno aperto dal saluto del sindaco di San Pietro Clarenza Giuseppe Bandieramonte. Anche noi abbiamo sponsorizzato insieme alla nostra scuola lo sport e la realità per gli alunni delle scuole elementari e medie di San Pietro Clarenza. Una cosa importantissima e ringrazio l'amministrazione penitenziaria per averci dato l'opportunità ancora una volta di fare una grande manifestazione qui all'interno della Scuola di Polizia Penitenziaria. Anziché assumere iniziative che finiscono per dividere il mondo sportivo sarebbe utile riunirsi tutti attorno al CONI per fare in modo che qualcosa per fare lo faccia in maniera determinante e forte. Quel qualcosa che farà noi lo stenderemo tutto a questa società che fanno campionati, quindi tutto a rimborso di spese di trasporti, proprio per venire incontro a questa esigenza che è molto sentita. Secondo, stiamo seguendo, il 10 aprile ci sarà finalmente la conclusione di un accordo nazionale all'Italia CONI dentro cui la Sicilia avrà una parte. Un grande evento sicuramente significa un sogno, significa tanta preparazione, significa sacrificio. Ovviamente l'Olimpiade è l'evento che condensa la vita di uno sportivo ed è un sogno, ma prima di quello diciamo un mondiale, un europeo, sono grandissimi eventi che per noi sono altrettanto importanti.